Uno dei ristoranti a ponte più caratteristici e a mio avviso anche più belli che abbiamo in Italia è sicuramente l'autogrill Limenella sulla A4 Milano-Venezia. È stato realizzato fra il 65 e il 67 dalla motta sul progetto di Melchiorre Vega e Pierluigi Nervi. La struttura è costituita da due travi parete alte 5,50 m in calcestruzzo armato faccia vista sostenute da quattro pilastri dalla tipica forma poligonale che caratterizza le opere di Pierluigi Nervi. Sui fori strutturali delle travi sono state ricavate le vetrate del ristorante appositamente pensate per far attaccare i nasi dei bambini.